E' ore 18 e allora questa sera eccoci qua per il nostro approfondimento appunto con il bellissimo regalo che come sempre diamo ai nostri amici perché quando poi c'è lei si illumina d'immenso tutto quanto, lo so, c'è qua la Sciura Ornella in studio con noi per fare l'angolo del dialetto che dalla prossima settimana avrà un giorno fisso, cadenza fissa, a meno di se arriva il Presidente della Repubblica ovviamente lo spostiamo ma se non arriva il Presidente della Repubblica rimaniamo sempre il martedì alle 18. Questo oggi eccezionalmente è il venerdì sera, Sciura Ornella con noi, Cruciverba pronto per le vostre risposte, buonasera a tutti cari amici, sei pronta? Ciao a tutti, sono pronta su chi, bella e più che altro i nostri ascoltatori se sono pronti. Adesso vediamo, ci saluta Silvia, Isa sono già pronte. Allora oggi è anche la giornata del gatto, io sono allergica al gatto quindi io i gatti non ne ho però ci sono tanti che ce li hanno questi animali anzi alcuni danno anche a questi animali dei nomi curiosi, magari se c'è qualche ascoltatore che ha un gatto che ha un nome curioso che ce lo scriva e che almeno lo diciamo in diretta perché veramente ci sono alcuni, a parte che ho sentito un giorno uno che chiamava il suo gatto Bruna adesso con tutto il rispetto però non riuscivo a capire se voleva parlare con sua sorella, sua mamma e invece era il gatto Era il gatto, era la gattina. Allora, come si dice, tanti che ci salutano, Isa, Sandra e Clara, c'è anche Luigi, Silvia che ci scrivono, sono già pronti per il super cuciverbo Guardate, è già qui pronto, guardate Aspetta, no, perché ho sbagliato, ah ok, no aspetta, 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 l'inquadratura, ok adesso è giusta, fallo vedere Sì, vera per dire che è già qui pronto, allora, vi spiego grandi linee come sarà Prego, ci dica Allora, ci saranno delle parole che magari sono più di una parola che naturalmente ho dovuto mettere insieme perché sono modi di dire per noi abituali, poi invece se sono quelle corte sono proprio spot Allora, c'è anche Marilena, che bello che ti vede Grazie, grazie Marilena Parla te stasera, che io ho un problema al denti, quindi parla te, non ho molta voglia, non riesco a parlare bene Non riesci a parlare, però il tuo ditino me lo presti? Eh sì, te lo presto Riusci? Un po' dolorante, ma va bene Allora, anche il ditino? No, il ditino no, allora, questo è la prima Partiamo dall'uno orizzontale Orizzontale, che è questo qua Bravissimo, sono nove lettere È un verbo Però noi lo diciamo con due parole Faccio vedere, questo qua Esatto Nove lettere Campare Vivacchiare Allora, campare, campare, vivacchiare Vivacchiare Vediamo un po', allora, chi risponde campare, vivacchiare Di solito viene usato quando magari uno gli dice Allora, come tastete? Eh, sa? Eh, sa? Eh, boh, vediamo chi scrive per primo, eh Dai, forza, io vi aspetto, vi aspettiamo Pronti, sono due parole Sono due parole, messe assieme Sì? Sostanzialmente Allora, dai, forza, vediamo un po', campare, vivacchiare Allora, l'aiuto è proprio questo Quando si chiede a uno come tastete Eh, sa? Sa chi? Sì, infatti, ah, sì, sì, ho capito Hai capito qual è? Ce l'hai presente? Allora, Sandra dice Tirinnanz Più o meno è giusto Tirinnanz Isa Tirinnanz Allora, lì sono tre Tirà, campare, no No, tirà è giusto E poi Innanz Tirinnanz Aspetta, tirinnanz Sì, allora Isa l'ha scritto giusto Perché Sandra ha scritto Tirinnanz No Ma è tirinnanz Innanz E tira innanz Sì, allora, ciao Marinella Ciao anche Ruggero Buonasera a voi Quindi Tira innanz La prima è viva chiare Proprio quando Isa ha messo due n No, innanz Tira innanz E tira innanz E Cecilia l'ha indovinato Però ha messo due n Anche Cecilia Fa niente Abbiamo scoperto che invece si scrive con un n Va bene Cecilia Brava Complimenti a te Complimenti anche a Isa Brava Complimenti Diciamo che allora Sandra è un benino Benino Sandra benino Sandra mi dispiace Tu sei un benino Gli altri ottimo Tu sei un benino Perché c'è Tira Mi ce l'ha scritto Ok, tirinnanz Vabbè Comunque Torino Ok Quindi proviamo a pensare Memorizzare Cioè T Cioè vediamo un po' chi risponde Allora memorizzare T T T Che bel vitino È proprio bello Luigi Assolutamente Fantastico Ecco questo è della Shura Questa è la mia Quella della Shura Questa è della Shura Io mangio le unghie Anche tu no Allora no Assolutamente no E vediamo allora Memorizzare Memorizzare Vediamo un po' chi ci risponde Che non è Re Gordas Non è Re Gordas Ma inizia con la T Perché vuole ricordarsi Che inizia con la T Memorizzare Cioè Te Te Gude Te 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 Ah sì Sì ho capito Forse ho capito Però non dico niente Tegna in mente Tegni in mente Ha scritto Isa Però aspetta Prima c'è Sergio Che dice Tegna mente Tegna mente Tegna mente Anche Marilena Perché sarebbe Tegna mente Essendo un verbo Tegna mente Giusto? E scritto Tegna Tegni A mente Sarebbero tre E' uguale Esatto Allora Marilena E Sergio Hanno indovinato Tegna in mente Scrive Cecilia Tegna mente Scrive Clara Però Sergio Però Sergio è arrivato per primo Che ha scritto Tegna mente Tutto attaccato Sostanzialmente Sì allora Sergio E Marilena I primi Se io qua metto un accento Tegna mente Tegna mente Diventa il verbo Tegna mente Non ho messo l'accento Unicamente perché poi mi serviva L'aria Tegna mente Allora aspetta Il Tegna mente Esattamente L'ha scritto Tegna in mente Tegna mente Però se tu lo leggi Tutto insieme Diventa Tegna mente Tegna mente Sì allora Clara Poi alla fine L'ha scritto Ecco giusto E corretto Alla fine L'ha scritto Clara Ok Non è semplice Però anche la La prima persona Che l'aveva scritto Che era un uomo Luigi no Sergio Sergio È uguale Perché Tegna mente Sì lui ha scritto Gn Tegna mente Anche Marilena Ah sì giusto Tegna mente Sì sì È la stessa cosa Sì insomma sostanzialmente L'avete fatto Bravi Questo per noi è memorizzare Perché Gude Tegna mente Devo memorizzare Il verbo memorizzare Non esiste In dialetto Ma c'è questo Tegna mente Tegna mente Allora perfetto Adesso Ornella dove andiamo Al 2 Allora andiamo qua Ok Che è il 2 orizzontale Sono 7 lettere 7 lettere Lo vedete Lo indico qua Esatto Allora Il capo famiglia Come veniva chiamato Il capo famiglia Allora il capo famiglia Come veniva chiamato Come viene chiamato Va bene Il capo famiglia Allora vediamo un po' Con una G Alla terza La terza La terza è una G Allora Capo famiglia Sì Si usava molto Tempo dietro Quando diceva O e u Che lì le ul Regiur Esatto Come è scritto R-E-G-I-U-R L'ha scritto Cecilia E Clara Mentre Isa Con due u Con due u Esatto Brava è a Isa Sì Isa Ha scritto Regiur Con due u Allora Isa Ha dovinato Isa Mentre anche Cecilia E Clara Ci sono andate vicinissimo Però In realtà La figlia batte mamma Esatto Anche Enrico Anche Enrico Dice Regiur No però con la R Regiur Regiur Perché è vero In alcuni luoghi Si dice anche un Regiur E anche Elvia L'ha scritto Un Regiur Soprattutto Sul lago Lago Ebrianza E Regiur Però è Regiur Ah ok A Como A Como è Regiur Ok quindi Allora ecco il termine giusto E questo qua Lo vedete Regiur 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 Esatto Perfetto Allora E la femmina Naturalmente Era la Regiura Ah si giusto È vero Un Regiur Era l'uomo E la Regiura E la Regiura Ok Erano i due capostipiti Ok ok Perfetto Allora E adesso questo qua Il tre È lunghissimo È lunghissimo Eccolo qua Lo vedete Sono esattamente Undici lettere Prego Non esiste il termine Dall'italiano Che fanno va bene Va bene Vabbè Scrivono Danaroso è Pien De Danee E E con due E finali Bravi bravi Insomma Questa sera abbiamo scoperto Che ci sono appunto Dei vocaboli Che dall'italiano Al dialetto Non possono essere Però Sergio No scusa Mauro ha scritto P-E-E E invece è Pien Quindi Mauro Ci mancherebbe una N Sì perché P-E-D-A-N-E No Ma Pien De Danee E Sandra ha scritto Al gaidanee Vabbè Sandra Però Uno che è il gaidanee È danaroso Ma vi un che gana tanti Esatto Ale pien De Danee Cara Sandra E un abbraccio Ciao Dolores Alla nostra cara Sura Ormella Grazie Dolores Grazie Grazie E anche Mariuccia Nonna Scrive Pien Da Danee Con due N Però No Con una N Sola E poi Esatto Infatti L'amministratore stasera Non gioca Perché stiamo facendo Dei lavori Stanno Cambiando L'amministratore Qua che gira Stiamo cambiando I serramenti E quindi sta finendo Di fare Poi gli darò Il compito a casa Va bene L'amministratore Quindi stasera È fuori gioco Prego Sì Allora E adesso facciamo Il quattro verticale Il quattro verticale Eccolo qua Lo vedete Esatto Bravo Che bellissimo Anche queste Sono due parole Perché non esiste In italiano Lo stesso verbo Scusate In dialetto Lo stesso verbo Ok Dell'italiano Accudire 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 Allora La seconda lettera È una A Accudire Vediamo un po' Quindi non esiste In italiano Non esiste Non esiste In dialetto Ah ok Non esiste In dialetto Perché accudire Ne minga Accudì Ma È una cosa Esatto Ok E sono due parole Due parole Messe assieme Insomma Accudire Vediamo un po' Chi cerca di rispondere Questa sera Siamo arrivati quasi alla fine Del super cruciverba Con la nostra Sciura Ornella Questa sera Poi dalla settimana prossima Ripeto Solo il martedì sera Alle 18 Quindi martedì Che è poi il giorno di carnevale L'ultimo giorno di carnevale Wow Ok Non vengo vestita in maschera Lo dico già Lo lasciamo fare alla Sandra Che lei è già più brava Allora Questa è difficile Dice Fak Adre Mauro Scrive Fak Adre Allora È giusto Tranne Che anziché la C Ci va la G Fag Invece lui ha scritto Fak Va beh Comunque bravo Mauro Bravo Mauro Bravo Mauro Fag Adre Ah sì Fag Adre Sì giusto Quindi Mauro Al posto della C Ci mettiamo la G Ma va bene Bravo Perché in effetti Sei arrivato vicino Bravo Mauro Poi c'è anche Mariuccia Che scriva Che scrive Fak Adre Sempre con la C No Invece è Fag Adre E anche Cecilia L'ha indovinato Però Cecilia manca una E Perché vedi Ci sono due E finali E allora lei ne ha messa una sola E Ok Anche questo Anche questo È un verbo In dialetto Che viene utilizzato tantissimo Dice Fak Adre Ma ci vuole una A E poi con la G E anche Clara L'ha indovinato Sì Fag Adre Sì Sì Certo Ok perfetto E questo è un verbo Che Questo termine Noi lo utilizziamo tanto In dialetto Fag Adre A una persona Sì O Fag Adre A un Anche a Sundrea Fa I compiti Insomma Ci sono Questo termine Viene utilizzato spesso Siamo arrivati al termine Siamo arrivati alla fine Guardate Sono solo quattro lettere Eccolo qua Lo vedete Cinque orizzontale Qua vi voglio Vediamo Puzza Puzza E quindi non è spuzza Vi dico già che le minga spuzza Ma si può dire un'altra cosa Puzza o O O O Allora c'è una N Che è la tre Allora sono quattro lettere Vediamo un po' chi arriva A rispondere per primo Sono curioso di vedere Aspettiamo Assomiglia tanto anche in italiano Quindi Un sinonimo di puzza Noi troviamo anche Allora U Du U No Secondo Tanf Scrive Silvia Come? Tanf Giusto Brava Silvia Brava Silvia Brava Silvia E anche Elvia è arrivata a dire Tanf Brava Elvia Prima Silvia Poi Elvia Mauro La nostra poetessa E bene Allora Tanf Eccolo qua Unta No Quindi Tanf Anche Enrico Credo vorreste dire Tanf Al posto di Tant E anche Cecilia Ovviamente Ha scritto la stessa cosa Ma bravissimi Abbiamo delle persone nuove Quindi che vengono Perché Cecilia Mi sembra che non avesse Cioè non Non aveva partecipato No Bene sono contenta Bene bene Un po' Anche Enrico Ha scritto Tanf Poi giusto Ok perfetto Va bene Allora questo è Il super cruciverba Di questa sera Con la nostra Guardate queste sono Tutte le parole Che abbiamo Fatto Più o meno Quella là Non sembra Ma ne abbiamo fatti Che vado a cercare E più E metterli insieme Per fare cruciverba E devo dire Che sono molto contenta Bene Adesso devo prepararlo Per martedì Camera 2 Camera 2 Che è questa Ok Questa qui giusto Sì esattamente La 3 e la 1 La 1 Fai sulla 1 Vai sulla 1 No Ok Adesso andiamo in camera 2 Saluta Ancora Ok perfetto E poi andiamo in camera 1 Per chiudere il nostro appuntamento Ciao Grazie a tutti Grazie dell'affetto Grazie anche di chi mi manda i saluti Al mattino Al pomeriggio Alla sera Va bene Io scusate E non rispondo Perché a volte Ne ricevo tanti E grazie a tutti E ci vediamo Martedì L'appuntamento Dalla settimana prossima Tutte le settimane Il martedì sera Non prendete appuntamento Dalle 18 alle 18 e 30 Perché ci sarà L'asciurornella Sarà fisso adesso l'appuntamento Finite le elezioni Abbiamo Io non sono stata eletta Rimosso i candidati Che non sono qui E quindi Dalla martedì prossimo Martedì ore 18 Fisso l'appuntamento Parliamo in dialetto Con l'asciurornella Ornella grazie davvero Grazie a tutti Grazie ragazzi Ci vediamo